L'assegno bancario L'assegno bancario è uno strumento di pagamento sostitutivo del contante con il quale il titolare del conto corrente, traente, ordina alla propria banca, trattario, di versare una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona, beneficiario. Quando si apre un conto corrente presso una banca, è possibile richiedere un libretto di assegni bancari. Se la banca autorizza il cliente ad effettuare pagamenti tramite assegni, il cliente deve depositare la propria firma su un apposito documento. Questo serve alla banca per verificare l'autenticità della firma sugli assegni presentati per l'incasso. L'assegno L'assegno è un documento prestampato secondo uno schema standard che riporta la denominazione assegno bancario e il nome della banca che lo ha fornito. È pagabile a vista. Può cioè essere pagato al beneficiario al momento della presentazione allo sportello della banca d'emissione. Un libretto di assegni, carnet, generalmente ne contiene 10 o 20 e prevede che ogni assegno possa essere agevolmente staccato per essere consegnato al beneficiario. Il talloncino chiamato madre, che riporta il numero del relativo assegno, resta attaccato al libretto. Il titolare può annotarvi, ed è utile farlo, la data, l'importo e il beneficiario del pagamento. L'assegno staccato deve riportare data e luogo di emissione. Esiste infatti un preciso tempo utile perché il beneficiario possa incassarlo. 8 giorni, se l'assegno è su piazza, ossia emesso nella medesima località, il comune, in cui opera lo sportello presso il quale è aperto il conto del traente. 15 giorni, se l'assegno è fuori piazza. Trascorso questo tempo, termine utile, il titolare del conto può dare disposizione alla banca di annullare l'assegno, ovvero di non pagarlo più quando verrà presentato per essere incassato. Dal canto suo, il beneficiario di un assegno ha interesse a incassarlo entro i due termini indicati perché, trascorsi questi ultimi, egli perderà il diritto ad una particolare azione coercitiva contro il debitore inadempiente che è definita protesto. L'utilizzo di un assegno presuppone la presenza sul conto corrente di una somma di denaro chiamata provvista, sufficiente a garantire la copertura dell'importo. Come compilare un assegno? Luogo? Scrivete il luogo, il comune, nel quale state emettendo l'assegno. Questo particolare, apparentemente secondario, è invece importante perché determina il termine entro il quale il beneficiario deve presentare l'assegno alla banca per l'incasso. Otto giorni se ne è chiesto l'incasso nello stesso comune in cui l'assegno è stato emesso. Quindici giorni negli altri casi. Data? Sull'assegno dovete scrivere la data di emissione indicando giorno, mese e anno. La banca utilizza la data scritta sull'assegno per registrare il pagamento sul conto corrente. L'indicazione di una data successiva a quella effettiva, assegno post-datato, non è consentita dalla legge e soprattutto non impedisce che l'assegno venga comunque presentato per l'incasso. Importo? Dovete scrivere l'importo due volte, una in cifre, l'altra in lettere. Quest'ultimo prevale in caso di discordanza. L'importo comprende anche due decimali da riportare dopo la virgola in quello in cifre, ad esempio euro 500,20, e dopo una barra in quello in lettere, ma sempre in forma numerica, ad esempio euro 500 barra 20. Per motivi di sicurezza, dovete sempre scrivere i decimali, anche se di importo pari a zero, per evitare un'alterazione illecita del contenuto che possa trasformare l'importo, ad esempio, da centinaia a migliaia di euro. Beneficiario? Il nome del beneficiario indica la persona o la società a favore della quale viene disposto l'ordine di pagamento. Gli assegni riportano prestampata l'addizione non trasferibile. Ciò vuole dire che l'assegno può essere incassato solo dal beneficiario indicato. Per esigenze specifiche, potete richiedere alla vostra banca assegni privi della clausola non trasferibile, pagando un'imposta di bollo. Tali assegni possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 1000 euro. Firma? Quando emettete un assegno, dovete firmarlo. La vostra firma è l'atto di sottoscrizione dell'ordine di pagamento. Usare gli assegni in sicurezza. L'assegno compilato, in quanto moneta bancaria, ha natura fiduciaria. La sua accettazione nei pagamenti poggia sulla fiducia degli operatori economici che la banca commerciale sia capace di convertirlo, su richiesta, in moneta legale. Ciò rende necessario che nella sua compilazione si usino particolari accorgimenti. Sia per rendere sicura e affidabile la relazione emittente-beneficiario, sia per consentire il miglior funzionamento della complessa infrastruttura del sistema dei pagamenti che deve lavorare l'assegno. Comunicazioni, addebiti, trasferimento fondi, verifiche. È importante innanzitutto compilare l'assegno in maniera completa, utilizzando una penna a inchiostro indelebile. Il libretto di assegni va custodito in un luogo sicuro. In caso di furto o smarrimento, comunicate immediatamente l'accaduto alla vostra banca, che provvederà a bloccare gli assegni. Sporgete subito denuncia presso i carabinieri o la Polizia di Stato. Ricordate che, in caso di mancata denuncia, potete essere ritenuti responsabili di eventuali danni conseguenti all'uso fraudolento dei vostri assegni. Per emettere un assegno, è necessario assicurarsi di avere sul conto corrente una somma di denaro sufficiente. L'emissione di un assegno privo della provvista costituisce un utilizzo improprio di rilevante gravità ed è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, come ad esempio il divieto di emettere assegni per un certo periodo di tempo. Quando ricevete un assegno, dovete osservare una serie di cautele per non correre il rischio che la banca vi rifiuti il pagamento. In particolare, controllate sempre che l'assegno sia compilato in tutte le sue parti, la completa e corretta compilazione tutela il titolare del conto, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto. Inoltre, la banca può rifiutare il pagamento di un assegno incompleto. Non siano presenti abrasioni, alterazioni o interventi correttivi, contrari alla volontà di chi lo ha emesso. Non sia mancante dell'angolo destro. Il taglio viene effettuato dalle banche al momento dell'incasso e dunque quando l'assegno ha smesso di circolare per impedirne il riuso fraudolento. Riporti la clausola non trasferibile, qualora l'importo sia pari o superiore a 1.000 euro. L'assegno circolare L'assegno circolare è una forma di pagamento più sicura per chi lo riceve di un normale assegno bancario che potrebbe risultare scoperto nel momento in cui lo andiamo a riscuotere, nel caso in cui mancassero fondi, sul conto da cui è tratto. Si tratta infatti di un titolo di credito per una somma sicuramente già disponibile presso la banca al momento dell'emissione. A differenza dell'assegno bancario dunque, nel caso dell'assegno circolare è la banca stessa e non il privato a rendersi debitrice nei confronti del beneficiario. Per questa sua caratteristica di sicurezza l'assegno circolare è usato per esempio per le compravendite immobiliari, per grossi importi e per transazioni tra persone che non si conoscono bene. Gli assegni circolari devono contenere il nome del beneficiario e non sono trasferibili. Per chiedere all'emissione non è necessario essere titolari di un conto corrente, può essere richiesto a qualsiasi banca versando in contanti il denaro. Anche in questo caso la copertura dell'assegno è garantita perché la banca incassa e blocca il denaro. È possibile incassare l'assegno circolare presso gli sportelli della banca emittente. La scadenza è di 30 giorni, trascorsi i quali l'assegno resta incassabile ma con minori tutele.